Voglio iniziare a mangiare sano. I genitori di Giuseppe sono qui. Mi piace la musica di quest'anno. Nel negozio di Fiori c'è fila. I clienti sono in sala da pranzo. Oggi ho una visita dal medico. Quest'anno me ne vado a Natale. Oggi sto nel mio appartamento. Faccio colazione in cucina. Adesso ho voglia di un gelato. A Milano fa molto caldo. È da un anno che non piove. Inviò la foto di ieri sera. La festa di Claudia è noiosa. L'acqua in bottiglia costa tanto. La mattina bevo molta acqua. Gli italiani sono molto eleganti. Gli olandesi sono molto allegri. Vedo molte donne vestite bene. Conosco molte lingue straniere. Molti autobus aspettano in fila. Le regioni italiane sono molte. Questi sono molto interessanti. Luca e Claudia sono molto belli. I nipoti stanno molto bene. Sto molto bene e sono felice. Molti amici sono arrivati adesso. Cerco di imparare molte lingue. Molti studenti sono in ritardo. Vicino al cinema c'è l'auto. Ci sono due mie amiche al bar. Non c'è più posto per noi. Ci sono tutti i nostri amici. Sul tavolo c'è un ragno. C'è qualcuno che ti cerca. Dove c'è un parcheggio? C'è ancora molto da fare. Non c'è più pane in cucina. Ci sono le pesche nel cestino. Nel bosco c'è una macchina. Sul tavolo c'è un quaderno. Sul letto ci sono due magliette. Sotto il tavolo c'è un gatto. Non c'è più pasta in cucina. C'è qualcuno che mi saluta. I miei amici ci sono ancora. Non c'è più acqua in piscina. C'è un cane che abbaglia. Ci sono dei bambini in giardino. Ci sono molte persone egoiste. C'è un cane che abbaglia. Siamo andati via dallo stadio. Usciamo a fare la spesa. Ho la tosse. Vado in farmacia. Non ci andiamo col treno. Andiamo a Napoli in agosto. Sono stanco. Vado a letto. Vado in spiaggia ogni giorno. Luca non viene dalla Francia. Lui viene dagli Stati Uniti. Siamo venuti a casa tua. Lei viaggia tanto in inverno. Esco tra dieci minuti circa. Facci sapere se esci fra poco. Abito qui, ma vengo dall'Italia. Sono uscito di casa presto. Vado a pranzo con Luca. I bambini escono alle quattro. Vieni con me al cinema? Abito qui, ma vengo da Pisa. Veniamo a piedi al cinema. Esco a fare un giro. Claudia non capisce la lezione. Neanche io capisco la lezione. Voi andate in vacanza domani. Anche noi ci andiamo domani. Lei gioca a calcio da molti anni. Anche tu ci giochi da molti anni. I miei cugini non aspettano mai. Neanche voi aspettate mai. Io telefono spesso a mia sorella. Anche lui le telefona spesso. Tu giochi molto spesso a calcio. Anche loro ci giocano molto. Lei non va mai a letto alle dieci. Neanche tu ci vai mai alle dieci. Loro non vogliono mai il gelato. Neanche noi lo vogliamo mai. Luca non è andato al lavoro oggi. Oggi non ci è andata neanche lei. Voi dovete spostare la macchina. Anche tu devi spostare la tua. Io vado al cinema ogni sabato. Anche io ci vado ogni sabato. I miei amici non escono stasera. Neanche noi usciamo stasera. Tu mi mandi molti messaggi. Anche tu me ne mandi molti. Voi andate in vacanza d'estate. Anche loro ci vanno d'estate. Domani dovete alzarvi presto. Non ci piacciono i piatti freddi. Non piacciono neanche a noi. Lei non può uscire di casa oggi. Neanche noi possiamo uscire. Io non so chi ha fatto questo. Neanche lui sa chi è stato. Voi avete già finito il lavoro. Anche loro lo hanno già finito. Luca non dice mai dove è stato. Neanche lei ce lo dice mai. Uscire. I miei amici sono usciti dal cinema. Vuoi uscire questo fine settimana? I miei cugini escono di casa adesso. Noi usciamo insieme da tre mesi. Dall'erubinetto esce molta acqua. Lasciare. Lascio la stanza appena ho finito. Ho lasciato il mio telefono a casa. Lascio le mie chiavi sul tavolo. Hai lasciato le chiavi in macchina. La tua amica lascia il suo fidanzato. Partire. L'autobus parte dalla stazione. Domattina parto in auto. Mio cugino è partito domenica. Questo libro parte da un'idea. Parto ogni giorno in anticipo. Andarsene. Dobbiamo andarcene via dalla festa. Luca se n'è andato sette anni fa. L'inverno se ne va tra due giorni. Non andartene dalla scuola adesso. Se me ne vado, poi non torno più. Una forchetta. Delle forchette. Un coltello. Dei coltelli. Uno gnocco. Degli gnocchi. Un'automobile. Delle automobili. Un amico. Degli amici. Una sedia. Delle sedie. Una tavola. Delle tavole. Un bicchiere. Dei bicchieri. Un cucchiaio. Dei cucchiai. Un cucchiaino. Dei cucchiaini. Una cucina. Delle cucine. Uno psicologo. Degli psicologi. Un bagno. Dei bagni. Una camera. Delle camere. Una bottiglia. Delle bottiglie. Un coltello. Dei coltelli. Uno sbaglio. Degli sbagli. Una forchetta. Delle forchette. Un salotto. Dei salotti. Uno zio. Degli zii. Domani parlerò di voi alla professoressa. Non ho dato niente a voi ieri. Sicuramente parlerò di loro al professore. Non scrivo mai a loro. Preferisco telefonare. Forse parlerò di loro al professore. No, non scrivo mai a loro. Mia sorella telefona solo a lui per studiare. Sì, io conosco proprio lui molto bene. Ieri ho dato il tuo indirizzo anche a lei. Forse esco con lei stasera. Marco e Maria, quando uscirete con noi? Signori, quando telefonerete a noi? Claudia chiama solo me ogni sera. Giovanni ha dato a me la sua penna. Claudia ha telefonato a te, non è vero? Lui vuole che io ti chiami stasera. Dottore, chiamo lei e non l'altro medico. Professore, le do il mio compito domani. Andare, io andavo. Io sono andato. Ascoltare, io ascoltavo. Io ho ascoltato. Chiedere, io chiedevo. Io ho chiesto. Capire, io capivo. Io ho capito. Bere, io bevevo. Io ho bevuto. Finire, io finivo. Io ho finito. Dovere, io dovevo. Io ho dovuto. Comprare, io compravo. Io ho comprato. Conoscere, io conoscevo. Io ho conosciuto. Iniziare, io iniziavo. Io ho iniziato. Leggere, io leggevo. Io ho letto. Nascere, io nascevo. Io sono nato. Sapere, io sapevo. Io ho saputo. Pagare, pagavo. Io ho pagato. Pensare, io pensavo. Io ho pensato. Potere, io potevo. Io ho potuto. Dare, io davo. Io ho dato. Vivere, io vivevo. Io ho vissuto. Parlare, io parlavo. Io ho parlato. Vedere, io vedevo. Io ho visto. Tornare, io tornavo. Tornare, io tornavo. Io sono tornato. Invitare, io invitavo. Io ho invitato. Credere, io credevo. Partire, io partivo. Io sono partito. Io sono partito. Leggere, leggevo. Io ho letto. Studiare, io studiavo. Venire, io ho studiato. Venire, io venivo. Venire, io venivo. Io sono venuto. Entrare, io entravo. Io sono entrato. Appena lo incontri, vigli di telefonarmi. Serena insiste finché non ottiene ciò che vuole. Dopo che furono ritornati, andarono a dormire. Quando hai telefonato, lei era già uscita. Prima che tu lo venga a sapere da altri, te lo dico io. Non guarirai finché faremo una gita in barca. Quando decidete di uscire, avvertitemi. Non passerà l'esame finché non si impegnerà. Dopo che fu uscita di casa, vide un'auto rossa. Si addormentò prima che il film terminasse. Appena ebbe finito di cenare, bebbe un caffè. Quando arriverà l'estate, andrò in vacanza. Ho studiato finché mi sono addormentato. Dopo che ebbi fatto la spesa, iniziai a cucinare. E lui OK. Qu Audience ? Per farlo. Non posso andare a sapere, l'esame file, ma passo un po' farlo. Non posso andare a sapere, poi parla THAT responsabilità, maoffsal 컨歲еди, e poi lo so बastraение. Grazie a tutti.